Adesso faremo una specie di esercizio, però questo esercizio è finalizzato a due scopi, uno è quello di cominciare a familiarizzare un qualche grafico elementare di funzione e un grafico di polinomio in particolare e l'altro è farci capire che per ricostruire questi grafici non ci servono soltanto le derivate, la derivata prima, non ci serve soltanto la derivata prima, ma ci possono servire anche quelle che si chiameranno poi derivate di ordine superiore. Allora prendiamo dei semplici polinomi, allora cominciamo con un polinomio di grado v, y uguale 3x meno 1, questi polinomio di questo tipo, il grafico di polinomio di questo tipo lo avete probabilmente ripassato alla e una retta in 0 vale meno 1 in 1 vale 2 unendo e prolungando unendo e prolungando unendo e prolungando un po' tecnico grafico di questo tipo lo avete probabilmente ripassato ai precorsi ho cercato di fare un grafico decente vediamo se la derivata ci da qualche informazione aggiuntiva questa è la mia funzione f di x cosa mi dice? che f' di x vale sempre 3 mi dice che la mia funzione sta salendo sempre con la stessa velocità diciamo praticamente la tangente al grafico è 1 e infatti il grafico è una retta la tangente al grafico è la retta stessa in qualunque punto del grafico va bene? non ci sono problemi diciamo qua la derivata non serviva per fare questo grafico ma comunque le informazioni che mi dà concordano perfettamente con quello che già sapete allora andiamo a fare quest'altro grafico di un po' di grado 2 y uguale x quadro meno 3x più 2 allora stavolta io cosa so? sempre dalle superiori probabilmente so che il grafico di questo polinomio di grado 2 è una parabola so che la concapità è rivolta verso l'alto so annullando l'equazione di secondo grado che questo si annulla in 1 e in 2 perché 1 meno 3 più 2 fa 0 4 meno 6 più 2 pure fa 0 quindi si annulla in 1 e in 2 in 0 vale 2 e insomma vado a ricostruire più o meno il grafico di questa parabola anche qui la derivata sembra non essermi servita un gran che tranne per il fatto che adesso se vado a scrivere la derivata f primo di x uguale a 2x meno 3 uguale a 0 se solo 6 x uguale a 3 mezzi io so che vabbè me lo potevo intuire dalla simmetria della figura ma adesso so che il punto di minimo di questa funzione è per me lo so non perché non solo perché si annulla la derivata se si annulla la derivata non è sicuro che sia un mino potrebbe essere ma io so che se vado a fare questa derivata prima di 3 è negativa il che vuol dire la funzione è scendendo in 3 vale 0 e dopo di 3 è positivo quindi quello che conta è anche lo studio del segno della derivata la derivata è negativa fino a 3 mezzi poi è 0 poi è positivo questo è il segno di f primo o guardate che se succedesse che la derivata è negativa che in un punto non esiste ma la funzione è continua e dopo è positiva quello sarebbe un minimo lo stesso per questo motivo la funzione scende poi se la derivata non esiste potrebbe avere un punto angoloso potrebbe fare altrimenti ma comunque prima scende e poi sale se prima scende e poi sale il punto è di minimo locale questo qui è un punto di minimo locale e assoluto 3 mezzi punti di massimo su tutto R non ce ne sono perché questa qui per x che tende a più infinito tende a più infinito per x che tende a meno infinito oppure tende a più infinito quindi come vediamo nel caso di una un polinomio di grado 2 la derivata ha aiutato un pochino di più ha aiutato a capire dove la funzione ha il punto di minimo in questo caso c'è un unico punto di minimo dove sta chiaro? però fino a qui non è che ci abbia dato mi sa quali vantaggi la conoscenza da di qualche cosa potremmo saperlo benissimo se uno non sta conoscendo diciamo come trovare i punti notevoli delle parafore potremmo trovare lo stesso vettice della parafore chiaro? andiamo a prendere un po' il nome di grado 3 prendiamo questo polinamio qua prima di studiare quel polinamio là facciamone uno più semplice andiamo a studiare il polinamio x2 come fratto il grafico del polinamio x2 è molto semplice questo perché la sua derivata fa 3x quadro che è sempre maggiore o uguale a zero tranne in zero dove vale a zero cioè semplice uguale a zero ed è sempre positiva tranne in zero dove vale a zero allora poi sappiamo che questo qui va a infinito per x che tende ad infinito che va a meno infinito questa volta sappiamo che in zero la tangente deve essere orizzontale però sappiamo che sia prima che dopo di zero la funzione cresce e allora viene fuori un grafico poi vedremo quando faremo delle definizioni relative che qua la funzione è in fondo ma qua è promessa e qui c'è il punto di flesso a tangente orizzontale ma questo lo vedremo in seguito non è il caso di anticiparlo adesso quello che possiamo dire è che stavolta allora qui abbiamo a che fare con polinomi quando uguali un polinomio a zero quante radici ci sono? allora se il polinomio è di grado 1 c'è una radice a meno che il polinomio non è di grado zero è costante oppure è di grado 1 però però sì a meno che non sia di grado zero costante e x uguale a 3 se y uguale a 3 allora non c'è nulla ma se il coefficiente m è diverso da 3 se non è una radice orizzontale il grado sicuramente c'è una radice quando il grado è 2 avevo una parabola potevo avere due radici una radice se la parabola però in qualche modo noi la chiamavamo radice doppia o almeno la chiamavamo radice doppia oppure posso avere zero radice se la parabola fa il grado con il sole della stagione forse l'ho già accennato ma questa ambiguità sparisce se usiamo i numeri complessi se usiamo i numeri complessi quando vado a trovare le radice in polinomio amicato 2 sono esattamente 2 si contate con la propria modalità in questo caso sono due radici reali qua sono due radici reali occidenti qua diventano due radici complesse che non corrispondono a zero in questo caso è la derivata che è un polinomio di grado 2 che ha due radici reali coincidenti quindi come vedete qui i raggi si possono rapidamente comunicare andiamo a vedere il grafico di questo polinomio qua allora noi cosa sappiamo? sappiamo poche cose che il limite per x che tende a più infinito di questo polinomio fa più infinito come si fa? si fa così si mette in evidenza x cubo qua rimane 1-5 su x quadro più 4 su x quadro allora per x che tende a più infinito x per x per x tende a più infinito questo tende a 1 questo tende a 0 questo tende a 0 1 per infinito che è più infinito è più infinito limite vabbè se ci metto meno infinito qui va meno infinito perché in quel caso x al cubo è negativo quindi se noi vogliamo fare il grafico di questa funzione sappiamo che da questa parte se ne va verso infinito da quest'altra parte va meno infinito vedremo poi che non ha asintoti neanche orizzontali però diciamo per il resto stiamo in difficoltà allora cosa facciamo? prendiamo la nostra funzione e stavolta per prima cosa facciamo la terminata f primo di x quanto fa? fa 3x quadro meno 5 questo è una nuova funzione g di x questa funzione è g di x questa qui è di grado 2 ne so fare il grafico 3x quadro meno 5 fa così le radici sono più o meno radice di 5 terzi che vuol dire? vuol dire che se vado a fare il segno di f primo fino a meno radice di 5 terzi questo è positivo poi è nullo poi è negativo poi a radice di 5 terzi sia nulla un'altra volta e poi è positivo di meno questo questo lo sapevo perché riconoscevo come so come studiare il segno di una maravola allora cosa mi dice questo sul grafico della mia funzione? allora radice di 5 terzi quant'è? 5 terzi è 1,67 circa la radice quadrata è circa 1,3 1,3 per 1,3 è 1,69 allora diciamo mettiamo che siamo qua radice di 5 terzi e qua meno radice di 5 terzi andiamo a fare andiamo a fare f d radice di 5 terzi questo quanto fa? fa fa la radice di 125 su 27 meno 5 volte per la radice di 5 terzi più 4 ora 4 per 27 fa 108 questo è un po' più grande di 4 4,5 ok? questa radice sarà tra 2,1 e 2,2 questo era circa 1,3 quindi qua siamo a meno 6,5 circa meno 6,4 2,1 2,2 meno 6,4 fa meno 4,2 più 4 è negativo verrà meno 0,2 circa se lo vogliamo fare con la calcolatrice lo dobbiamo fare allora allora 125 diviso 27 uguale radice 2,15 m più 5 diviso 3 radice radice 1,29 per 5 con meno m più 4 m più meno 0,3 e qualche cosa quindi sappiamo che qui la mia funzione sia pure di poco ma è mega mega di poco poi però cosa sappiamo? sappiamo che da questo punto in poi la funzione risale perché da 5,3 in poi la funzione risale andiamo a fare f di meno radice di 5,3 beh devo semplicemente cambiare il segno a questi due quindi devo fare meno la radice 125 su 27 più 5 radical 5 più 4 stavolta oppure cambiate segno a tutto e poi ci aggiungete 8 perché se cambio segno a tutto viene la stessa cosa con meno 4 e poi ci aggiungete 8 se cambio segno a tutto prima faceva meno 0,3 cambiando segno fa più 0,3 più 8 qua la mia funzione aveva un valore molto alto diciamo non lo facciamo perfettamente in scala ma era circa 8,3 quindi la mia funzione è stata qua sotto però so anche che la funzione fino a questo punto allora io cosa so? che la funzione prima di questo punto saliva poi scende e poi risale allora come deve essere fatto il grafico della mia funzione? deve avere per forza un andamento di questo tipo in particolare la mia funzione si deve annullare tre volte più di tre volte non si annulla non si può annullare perché quando questo è un polinomio se lo guai a 0 più di tre radici è di grado 3 più di tre radici non le può avere per un fine ok? poi però allora io so che che il minimo e il massimo e il massimo ce l'ha in questi due punti il massimo in meno radice di 5 terzi è il massimo locale che poi il massimo assoluto non c'è perché questa funzione da questa parte va più infinito il minimo locale ce l'ha a radice di 5 terzi il minimo assoluto non c'è perché qui la funzione va meno infinito l'unica cosa che ci manca da sapere per ricostruire perfettamente il grafico è dove si annulla la funzione e dove la funzione è concavo commesso questa funzione sarà vedremo poi però diciamo effettivamente si capisce che è concavo alla fine a un certo punto e poi dopo di che è concavo ah la concavità o commessità anche se non l'abbiamo definita è facile da fare perché ha a che fare con il zero della derivata seconda qui la derivata seconda è semplicemente 6x che è negativa prima di zero e positiva dopo di zero quindi la funzione è concava fino a zero e positiva e commessa da zero in poi questo lo vedremo dopo ma insomma giusto per far capire che questo è facile da determinare quello che potrebbe essere più complicato è determinare questi zeri ora però in questo caso gli zeri si fanno in maniera esatta perché io ho scelto il poliname di grado 3 in maniera furba l'ho fatto in maniera tale che si possa studiare fino in furba però se io vi cambio questo coefficiente e ci metto meno 4.9 oppure invece qua di mettere più 4 di mettere più 4 ci metto più 5 quelle radici se metto più 5 che significa no più scusate invece di più 4 se metto più 3 se metto più 3 abbasso tutto di 1 le radici si spostano un po' e non riusciamo più a calcolare in maniera esatta noi la formula c'è c'è la formula di Cardano però la formula di Cardano noi non l'abbiamo studiata sapremmo anche farla abbiamo accennato come si fa però non ci vogliamo perdere tempo per quale motivo? queste radici vabbè in questo caso le facciamo in maniera esatta perché? una di queste radici si può fare a mano si può osservare che nel punto 1 questa funzione si annulla se nel punto 1 la funzione si annulla vuol dire per uffini che questo qui si deve poter dividere per x-1 quindi qua il quotiente il quoto anzi deve fare x quadro qua ci deve venire meno 4 x quadro mi fa x cubo poi c'è un meno x cubo che qua non c'è quindi qua mi deve venire meno x perché scusate più x perché qua viene meno x quadro più x quadro così se ne va qua poi deve venire qui mi viene meno x e qua mi deve venire meno 4 così mi fa meno 4x meno x mi fa meno 5x poi meno 4 per meno 1 mi fa 4 quindi se fare questa divisione non richiede fare veramente diciamo la divisione con uffini uno qua sai che ci va x quadro poi ci deve dare meno 4 perché meno 4 per meno 1 fa 4 e poi il coefficiente della x lo aggiungo in maniera adesso a questo punto le radici che sono una è x con 1 uguale 1 che è questa radice qua che è un po' più piccola di radica 5 terzi poi da qui abbiamo x uguale meno 1 meno più la radice di 17 mezzi di quadro meno 4c fa 1 più 16 fa 17 adesso se andiamo a fare queste sono le chiamiamo x 2,3 allora x2 sarà qua e x3 sarà questa qua x2 ok a tuttavia va bene per esempio mettiamo radica al 17 poco più di 4 poco più di 4 meno punto 1 meno 1 fa 3.1 diviso 2 fa 1 e 55 quasi 1.6 da quest'altra parte saremo saremo meno 1 meno 4.1 diviso 2 fa meno 2 meno 2.6 meno 2.5 meno 2.6 quindi abbiamo determinato tutto anche gli zeri e possiamo fare supponiamo però che io modifichi la funzione e faccia invece di studiare questa qui con un 4 ci metto 3 se ci metto 3 questo equivale ad abbassare la funzione di 1 è completamente equivalente ad alzare l'asse delle ascisse di 1 quindi come vedete il grafico della funzione è perfettamente tanto preciso identico a quello di prima tranne per il fatto che è stato spostato di 1 sopra o sopra allora cosa possiamo sapere? che queste due radici come vedete qui la funzione è stata scendendo la funzione è stata salendo questa si sposta un po' a sinistra questa si sposta un po' a a destra questa invece si sposta un po' a destra ma saranno più o meno la vicino allora se io voglio studiare gli zeri di questa funzione che il grafico per il resto è come quello dipinto ma qua l'unica cosa che mi manca sono gli zeri di questa nuova funzione semplicemente beh qua se vado a vedere in meno 2.5 la funzione sarà negativa in meno 2 se ci metto meno 2 qua mi viene meno 8 più 10 più 3 è ancora negativa perché viene no no meno 8 più 10 più 3 è positiva quindi viene più 5 quindi tra meno 2 e mezzo e meno 2 ci sta questa radice allora se voglio sapere questa radice più o meno dove sta anche se prima avevamo i valori esatti alla fine quando li andavamo a disegnare ci servivano dei valori approssimati approssimati circa 0.1 ma qui se volessi il valore approssimato ci metto tanto? no anche se lo facessi a mano applicando 2 o 3 volte il metodo di bisezione riesco ad arrivare ad un'approssimazione molto buona poi ci sono metodi più furbi ma comunque con poca matica posso arrivare ad un'approssimazione molto buona ovviamente se lo faccio con il computer è ancora meglio quindi in realtà se voglio se voglio conoscere solo il valore approssimato di questa radice a me non è tanto diverso se qua ci sta 4 se qua ci sta 3 quel po' di fatica in più che serve la farà il computer probabilmente però io devo sapere che qua la funzione si annulla 3 volte e questo lo so perché se prima si annullava 3 volte a maggior ragione adesso si annulla 3 volte io basta che vado a calcolare la funzione in questo punto la negativa rimane negativa in questo punto la negativa rimane negativa qua era positiva in meno 2 era positiva rimane positiva quindi la funzione cambia segno 3 volte meno più meno più cambia segno 3 volte sicuramente si annulla 3 volte più di 3 non si può annullare perché è un po' di lato 3 quindi come dire qualitativamente il grafico è molto facile da fare quel po' di dati che possono che devono essere approssimati per esempio sugli z della funzione si possono approssimare tranquillamente non siamo tenuti a calcolarli per forza in maniera esatta se c'era meno 4 li calcolavamo in maniera esatta gli z erano 4 se ci sta meno 3 e va bene saranno li trovo facilmente perché stanno vicino approssimativamente chiaro? stavolta però se ci fate caso il ragionamento per capire quanti sono gli z della funzione per fare quel ragionamento è stato fondamentale sapere la derivata prima come si chi era e come si comportava perché nel momento che so che la funzione ha il massimo adesso se io prendo 3 invece di 4 la derivata cambia? no è cambiata una costante quindi la derivata di quella costante sparisce quindi il massimo e il minimo della funzione rimangono nello stesso 8 questo massimo della funzione quando lo vado a calcolare prima veniva 8.3 circa adesso verrà 7.3 questo minimo veniva a meno 0.3 circa verrà circa a meno 1.3 quindi la funzione partiva dai negativi arrivavano sui positivi tornava sui negativi torna sui positivi quindi so che la funzione ha tre z e perché lo so? perché ho studiato la derivata quindi io conosco qualitativamente il grafico della funzione perché ho potuto studiare la derivata quindi punto numero 1 la derivata mi è servita tantissimo questo problema mentre prima era una cosa quasi obscena stavolta mi serve perché se no non riesco a capire si intanto che la derivata ha un segno variabile mi dice una funzione sale, scende, sale è già la prima cosa poi il fatto che in questi punti la funzione abbia un valore di segno opposto mi dice parte dai negativi sale sopra 0 scende sopra 0 e poi sale sopra 0 queste sono informazioni fondamentali quindi stavolta la derivata o studio del segno della derivata in particolare e della derivata è stato fondamentale per ricostruire qualitativamente il grado di quattro poi il resto sono dettagli ok? andiamo a prendere vediamo un po' se abbiamo una mentira di minuto 14 andiamo a prendere un polinomio di grado 4 riposito andiamo a prendere Allora, andiamo a scrivere il nostro coordinamento di grado 4. Allora andiamo a scrivere per esempio. x alla 4. Meno. Vediamo un po'. Meno. 7x quadro. Più 3. Mettiamoci. Più x. Più 3. Non l'ho preso proprio con tutti i termini. Vedete il termine di grado 3 non ce l'ho messo. Però, all'inizio la x non ce la volevo mettere, però se non ci metto la x poi si può risolvere perché è una biquadratica. E allora l'ho voluto. Questa è la mia funzione. voglio fare il grafico di questa funzione qualitativamente e poi voglio anche più o meno. Questa volta ancora avrei una funzione. Diciamo, se voglio determinare i z di questa funzione, ancora avrei una formula, la formula di Ferrari, però è talmente pubblicata che non ha grandi disegno. Lo sa, infatti non sta nel programma neanche nei corsi universitari, anche perché poi vale se quello è un polinomio di grado 4. Se appena ci mettiamo una funzione un poco diversa, non c'è nessuna formula di Ferrari. però quello che sappiamo è che questa funzione al massimo si annulla 4. Poi sappiamo che per x che tende a più infinito comanda questo, per x tende a meno più infinito, quindi la funzione va a più infinito sia di qua. Allora, come si fa? Eh, dice questa la sappiamo studiare, no, perché è di grado 4. Allora comincio a fare le derivate. Chi è f primo di x? 4x cubo meno 14x più 1 è di grado 3. Mango mi piace. Per fare la derivata seconda. La derivata seconda è 12x quadro meno 14. Ah, questo è di grado 2, questa la so fare. Andiamo a fare il grafico di f secondo di x. Questa è una banale parabola, tra l'altro è simmetrica rispetto all'asse delle coordinate. Qua si annulla a più radical 7 sesti e a meno radical 7 sesti. Poi va su, la concavità, insomma la parabola è abbastanza stretta. a meno radicale. Perché c'è 12, no? Ok. Ah, scusate, qua, meno 14 va giù parenti. a meno radicale. Infatti è abbastanza stretta. Vabbè, comunque no, al di là del fatto che riusciamo a farla benissimo, questa è una parabola che va così, simmetrica rispetto all'asse delle ordinate. più di questo, più di questo, sapete dove si annulla. più di questo, qua vale meno 14. Non è che c'è molto da sapere su questo grafico. Questo è il grafico di f secondo di x. x, 0. Dice, ma allora, non è che questo grafico mi può aiutare a farmi il grafico di f primo? Certo, se tu ti dimentichi f per un attimo. f primo è un po' di grado 3. Prima, come abbiamo fatto il grafico di grado 3? Facendo la derivata. Allora, noi sappiamo che f primo andiamo a fare il grafico di f primo. quindi, fino a meno radical 7 sesti e a più radical 7 sesti è vicino a 1. Quindi radical 7 sesti è ancora più vicino a 1. Fino a meno radical 7 sesti, f secondo è positiva. quindi f primo sale. Se io prendo 1, meno 1, scusate, viene meno 4, più 14, più 1, che fa più 11. A meno radical 7 sesti stiamo là vicino, sarà invece di più 11, sarà un valore un po' diverso, ma... la funzione sale parecchio. Parte da meno infinito, arriva qua fino al massimo, che è superiore a più 11 perché a meno 1 sta un po' oltre, quindi a meno 1 la funzione è già cominciata a scegliere un'altra volta. In 0, la funzione quanto vale? Vale 1. Quindi qua siamo oltre 11. Questo massimo è oltre 11. In 0, questa funzione vale 1. e poi in 1 la funzione vale meno 9. Quindi questa funzione va giù drammaticamente fino a meno 9. Poi continua a scendere un altro po' perché scende fino a radical 7 sesti e poi risale. quindi il grafico di F' a occhio fa così. Ora, cosa mi interessa sapere del grafico di F' mi interessa stavolta bene sapere gli zeri. Allora, questi zeri li chiamiamo x1, x2 e x3. Perché mi interessa sapere gli zeri? perché così posso studiare il segno di F' o no? Allora, x1, io so che la funzione sta salendo e a meno 7, radical 7 sesti era sicuramente arrivato a un valore positivo. Se ci metto meno 2, qua mi viene meno 32 più 28 più 1 fa meno 3. Quindi questo x1 è maggiore di meno 2. ma se ci metto 1.9 meno 1.9 qua mi viene meno 27,43 poi più, qua mi viene più 27.6 a meno 1.9 la funzione è positiva. Quindi se andate a fare i conti, questo x1 sta tra meno 2 e meno 1.9. A zero, la funzione avevamo detto valeva 1, era positiva. Metteteci anche solo 0.1. 0.1 al cubo è un millesimo, 4 millesimi, meno 1.4 più 1 fa meno 0.4, quindi la radice x2 è compresa tra 0 e 0.1. la radice x3, beh, stavolta se ci metto 2, qui mi faceva 32 meno 28 che fa 4 più 1, stavolta fa 5. stavolta se ci metto 1.9 ancora viene positiva. Però ci metto 1.8 per 4 mi fa 23 e 32, 1.8 per 14 mi fa meno 25 e 2, quindi viene meno 1.9 più 1 è negativo. Quindi questo qua è compreso tra 1.8 e 1.9. Insomma, due conti fatti con la calcolatrice, anche a mano, mi dicono subito, con la calcolatrice più che altro le ho controllate, mi dicono che queste tre radici stanno qui. Adesso, andiamo a fare il grafico di f. Il secondo lo lascio stare là, andiamo a fare il grafico di f. Allora, quali sono? Allora, la funzione parte e arriva con valori che vanno più infiniti. Sia per x che fa meno infiniti che per x che fa più infiniti. Chiamoli che per x molto grande in valore assoluto comanda questo. Quali sono i valori che mi interessano? Mi interessano sapere i valori della funzione in queste radici. Quindi, soprattutto, mi interessa sapere... Allora, fino alla prima radice, che succede? Che f' è negativa. Che vuol dire che la funzione f sta scendendo. Allora, prendiamo meno 2. Meno 2 è sicuramente prima di x con 1. Quindi la funzione sta ancora scendendo. Meno 2 alla quarta fa meno 16. Meno 2 al quadrato fa più 4. Meno 16 meno 28 fa meno... Allora, scusate, questo fa più 16. Meno 28 fa meno 12. Meno 2 fa meno 14. Più 3 fa meno 11. Quindi, dalle parti di meno 2, questa funzione non solo è scesa sotto 0, ma è scesa parecchio sotto 0. Quindi, fino a x con 1, questa funzione scende ed è negativa. Cambia segno e diventa negativa. Ripeto, il meno 2 vale più 16 meno 28 fa meno 12, più 2 fa meno 10. Più 3 fa meno 7. Scusate, non meno 13. Però comunque è parecchio negativo. Siamo dalle parti di meno 7 anche un po' più giù. Perché a meno 2 stiamo ancora scendendo. Quindi, il primo minimo possiamo dire, questa funzione ce l'ha, è al di sotto di meno 7. Poi, il secondo valore della funzione, dove c'è il massimo, è x con 2. Perché da x con 1, x con 2, la derivata prima è positiva. che vuol dire che la funzione f sta salendo. Ma se io prendo la funzione f in 0, dove sta ancora salendo, perché x con 2 è positivo, in 0 la funzione è risalita fino a 3. e il massimo ce l'ha giusto poco dopo 0. Poi, tra x con 2 e x con 3 la funzione scende un'altra volta. x con 3 era compreso tra 1 e 8 e 1 e 9. Se però, stavolta ci metto 2, mi viene un'altra volta, 16 meno 28, che fa meno 12. Stavolta invece che meno 2, più 2 più 3, ma meno 12. Ah sì, prima non era, era meno 11 perché era meno 2, non più. Stavolta fa più 6. Quindi qua stavamo... l'avevo detto bene la prima volta. Stavolta scende ma... qui siamo di sotto di meno 1. Qui siamo un po' sotto meno 7. Perché siamo sotto meno 7? Perché a più 2, la funzione era già ripresa a risalire, a più 2 la funzione vale meno 7. Quindi vuol dire che il minimo era più basso di meno 7. quindi la funzione ha un grafico di meno. Noi sappiamo che la funzione scende, sale, scende e sale. Perché? Perché la derivata prima era negativa, positiva, negativa e positiva. quindi la funzione scende e sale, scende e sale. Poi sappiamo che nella sua discesa e nella sua salita, nell'altra salita e nell'altra salita, la funzione cambia sempre. Quindi la funzione effettivamente cambia sempre. 4, 8. Poi, siccome conosciamo abbastanza bene le posizioni di x con 1, x con 2, x con 3, se conosciamo più o meno i valori di massimo e di minimo della funzione. Ovviamente, se li volete conosci in maniera un po' più precisa, per esempio per sapere che questo valore è compreso per esempio tra meno 11 e meno 12, che è stato compreso tra meno 7 e meno 8, dovete fare dei calcoli un po' più accurati. Però, più o meno, qualitativamente, adesso, che questo minimo sia meno 11, qualcosa o meno 12, qualcosa, è molto significativo? No. Quello che è significativo è che questo minimo è sicuramente meno di questo. Per quale motivo? Perché, diciamo, quando scambiamo x con meno x, questi pezzi non cambiano, questo pezzi invece diventano così positivo. Quindi, diciamo che sicuramente questo minimo è più grande. Vedete, quando io facevo alla fine, c'avevo meno 9 e meno 2, facevo meno 11, qua meno 9 e meno 2, più 2 fa meno 6, circa, vicino a quei punti, ok? Nel punto meno 2 e nel punto 2. quindi io posso sapere, più o meno, qui il massimo sarà compreso tra 3 e 4. È sicuramente maggiore di 3, perché in 0 la funzione vale 3, ma è sicuramente minore di 4, perché per esempio, ha 0.1, dove la funzione è, diciamo, tra 0 e 0.1. Se io sommo, anche se cambio segno a questo, e sommo tutti questi con i contributi positivi, a 4 non ci arrivo mai. Quindi sicuramente il valore massimo della funzione, qui, sarà un po' più grande di 3, ma sicuramente minore di 3. e in questo modo, aiutandosi un pochettino con la calcolatrice, che un poco a mano, uno può sicuramente ricostruire gli aspetti salienti del grapio di questa funzione. se poi vuole conoscere i punti di massimo, le coordinate, le ascisse, i punti di massimo di 3, già più o meno lo sapevamo, erano quelle degli z di f' per primo, se poi vuole invece sapere dove la funzione è concava e commessa, questo è ancora più facile, perché appena gli z è la derivata seconda, quindi fino a meno radica al 7 sesti la funzione è commessa, da meno radica al 7 sesti e più radica al 7 sesti la funzione è concava, da più radica al 7 sesti la funzione è concava, quindi come vedete, modulo piccole imperfezioni, noi il grafico di questa funzione lo conosciamo benissimo, allora adesso facciamo pausa, però prima di fare pausa andiamo un attimo a fare l'insegnamento da quello che siamo riusciti a fare in quest'ora di lezione, in quest'ora di lezione cosa siamo riusciti, qual è il take home message, cioè cos'è che ci dobbiamo portare a casa da quest'ora di lezione? punto numero 1, se io devo fare il grafico di un polinomio, ricostruire il grafico di un polinomio, la derivata mi aiuta, eh però derivando derivando io arrivo a un polinomio di grado 2, allora qua il polinomio di grado 4, la derivata seconda la so fare perché è un polinomio di grado 2, con questa mi ricostruisco il grafico di questo che è un polinomio di grado 3, quando conosco abbastanza bene questo, con il grafico di questo, in particolare con gli zelli della derivata di questo, posso ricostruire il grafico del polinomio originale, naturalmente tutto questo posso fare in maniera approssimativa, naturalmente se il polinomio era di grado 7, dovevo fare la derivata quinta che era di grado 2, mi studiavo quella e con quella ricostruivo la derivata quarta, con la derivata quarta ci facevo la derivata terza, con la derivata terza ci facevo la derivata seconda, con la derivata seconda ci facevo la derivata prima, con la derivata prima ci facevo la f, chiama che è molto lungo, però arrivo, si può fare in maniera approssimata, se riesco a fare i conti in maniera abbastanza precisa, si può tranquillamente farli, naturalmente nessuno vi darà da studiare un grafico di un polinomio di grado 6, però il grafico di questo polinomio di grado 4 non era così difficile, ci abbiamo messo un po' più di un quarto numero, abbiamo sporato però, ci abbiamo messo in minuti, ma non di più, chiaro? più in generale, più in generale, quando siamo andati a fare questi grafici, abbiamo visto che ci sono anche altre informazioni che riguardano la derivata seconda, ma comunque, la derivata seconda è la derivata prima della derivata prima, quindi, in ogni caso, ti può essere utile per ricostruire la derivata prima, e ti può essere utile per ricostruire la equa, quindi, ha senso andare a considerare le derivate che di ordine superiore e capire quali sono le derivate delle nostre funzioni, cioè, una volta fatta la derivata prima, possiamo, in molti casi, ulteriormente, la derivata delle nostre funzioni, questo sarà, adesso, un po' lo scopo di massima, cioè, d'ora in poi cominciamo ad andare a vedere le derivate di ordine superiore, come si fanno? vabbè, facendo le derivate delle derivate prima, per esempio la derivata seconda, ma, soprattutto, a che servono? perché, in certi casi, vedremo, ci servirà magari solo la derivata seconda, però, in certi casi, vediamo che noi, magari, per esempio, la derivata di seno chi è? coseno, la derivata di coseno è? meno seno, la derivata di meno seno è? meno coseno, la derivata di meno coseno è? seno, allora, le derivate della funzione seno le conosciamo tutte, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, tutte, perché a un certo punto si ripete, la derivata di e alla x chi è? e alla x, la derivata seconda e alla x, la derivata terza è sempre e alla x, allora, il fatto di conoscerle tutte, cioè, ci darà qualche informazione in più o no, su questa funzione? io dico di sì, e allora, il concetto sarà proprio quello di sviluppare, di capire, se la conoscenza delle derivate di ordine superiore di una funzione, o anche di tutte le derivate di ordine, di qualunque ordine di una funzione, in molti casi potremmo farlo, ci posso dare, fornire ulteriori informazioni sulla funzione stessa. Va bene? Adesso facciamo la pausa.